Noi ci colleghiamo adesso con la professoressa Antonella Viola, che ormai è la nostra amica del sabato sera, la persona che ci dà sempre informazioni corrette, precise, e anche però con quel meraviglioso sorriso che ci fa sperare. Io questa sera vorrei che la parola fosse speranza, non alludo al ministro, ma proprio allo spirito che dobbiamo avere. Allora, professoressa, la prima domanda è ovvia. Secondo lei è una specie di lockdown camuffato quello che ci si sta profilando, no? Domenica è tutto serrato, sabato dalle 18, parleremo poi delle conseguenze anche economiche, pensate ai ristoratori, ai bar e a chi ci lavora. Ma era proprio necessario, secondo lei, arrivare a questo punto? No, no nel senso, allora cerco di spiegare il concetto. Dunque, un lockdown aveva senso nella prima fase perché non avevamo informazioni, dovevamo prendere delle decisioni basate sul buonsenso, eravamo in emergenza e non solo. Avevamo di fronte a noi poi l'estate in arrivo, che sapevamo avrebbe comunque dato un momento di maggiore respiro perché tutti i virus di tipo respiratorio durante l'estate sono meno aggressivi. Quindi dovevamo superare una fase critica perché poi comunque saremmo arrivati verso un momento di minore tensione. Ora noi abbiamo la situazione molto diversa perché, prima di tutto, ce l'aspettavamo questa seconda ondata, non è in attesa. Certo, l'intensità poteva essere di natura minore, potevamo controllarla meglio, sono assolutamente d'accordo sull'aspetto dei servizi, dei trasporti, che insomma c'erano tante cose che si potevano fare meglio, però sarebbe arrivata questa nuova ondata perché l'autunno, l'inverno porta questo normalmente. Allora, che cosa è cambiato da allora ad oggi? Due cose. Uno, durante questi mesi noi abbiamo fatto il tracciamento, per cui devono esistere dei dati che dicono quali sono i luoghi del contagio e quali no. E in questo momento noi non possiamo più usare il buonsenso per andare a fare delle manovre così incisive, così pesanti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società, sulle famiglie. Non possiamo usare semplicemente un'ipotesi, ma chiudiamo questo, chiudiamo quest'altro. No, noi dobbiamo vedere i dati. C'è stato un appello di Parisi, del professor Parisi, l'altro giorno, che diceva noi vogliamo avere accesso ai dati, dei dati che devono essere studiati, analizzati, perché grazie a quei dati noi potremmo dire il contagio avviene all'interno delle palestre. Fare interventi più mirati, per essere un po' più mirati. Mirati, assolutamente mirati. Anche perché qui c'è una situazione che bisogna tenere presente. Noi non andiamo verso l'estate. Noi abbiamo sette mesi di inverno, di inverno, autunno, primavera, in cui il virus tornerà. Per cui se noi facciamo adesso un lockdown e poi riapriamo, poi ci sarà la terza ondata e poi ci sarà la quarta ondata. Quindi noi dobbiamo necessariamente trovare delle misure molto specifiche, molto mirate e convivere con questo virus. Certo. Professore, se le faccio vedere un video, che in queste ore è girato molto. Ecco, vedete questa attack polmonare. Le immagini scure sono le immagini, le parti del polmone che ancora funziona, che ancora ha un'attività respiratoria. Tutta la parte bianca dei polmoni è la parte che non funziona più, che non ha più un'attività respiratoria. Questo è un uomo di 37 anni che è portato in terapia intensiva, che senza il ventilatore polmonare è destinato a morire. Ecco, non era con tutta evidenza una puntata di Quark, ma era il presidente della regione Campania, che credo debba occuparsi di ospedali, che comunque usava una lastra di un 37enne, quindi un caso abbastanza eccezionale, perché ricordiamo che l'età media del virus per quanto riguarda i morti, mi correga se sbaglio, i dati del risultato superiore della sanità è di 81 anni, e lui ha fatto vedere questa lastra per, in qualche maniera, un po' spaventare. È una modalità che può funzionare, secondo lei, questa professoressa? No, io non credo assolutamente che sia il caso di fare terrorismo in questo momento. Bisogna certamente dire che la situazione è grave, importante, però non fare terrorismo, magari invece bisognava aumentare i posti di terapia intensiva in Campania, perché è una delle regioni che invece non ha affatto un gran lavoro dal punto di vista della sanità e dell'organizzazione, se si trova adesso in queste condizioni è proprio per questo motivo. Però è vero che anche i giovani possono andare incontro a problemi seri se vengono infettati, però appunto la maggior parte, la stragrande maggior parte delle persone non avrà di questi problemi. Infatti la criticità, se proprio dobbiamo dirla, non è tanto la mortalità con tutto il rispetto per le persone che invece muoiono, naturalmente, perché ogni singola vita va protetta, va tutelata e va salvata. Ma il problema grosso è quel 6% di persone che vengono ricoverate negli ospedali. Per cui se noi facciamo correre il virus liberamente, 6% della popolazione italiana è tanta roba e quindi l'ospedale si blocca, si intasa, non funziona più. Perché, professoressa, poi chiedo anche l'intervento di me, la paura di chi ci ascolta, al di là della paura legittima per il virus, è quella per chi ha delle altre malattie che non può accedere all'ospedale. E stanno cominciando a succedere casi, no? Assolutamente. Di persone infartuate, persone che hanno dei problemi, gente che non può più fare la chemioterapia. Cioè è questo, no? Mi pare il centro del problema. Sì, è questo, cioè il fatto che si intasi completamente la sanità. Ma abbiamo detto dall'inizio, il problema grosso di questa malattia è appunto il crollo, la crisi del sistema sanitario. È anche una crisi che dipende dal fatto che noi soffriamo di una carenza di medici cronica e di personale sanitario cronica. Per cui è vero che durante l'estate un po' sono aumentati i posti di terapia intensiva, anche se non quanto dovevano a secondo il piano che era stato stabilito. Però i medici non ci sono, non c'è sufficiente personale. Per cui lo stress è più basso rispetto al numero di posti letti. Lo stress, il fattore limitante è il personale in questo momento. C'è una domanda di mia. Massimo, questa è la ragione per cui non abbiamo mai pensato, anzi, chi lo ha pensato è stato giustamente l'edarguito che quel 6% in realtà non stesse in realtà bloccando il paese. Non siamo tutti quanti chiusi in casa perché il rischio è il 6% che è un numero piccolo. Non è assolutamente un numero piccolo come spiegava la professoressa Viola benissimo. È un numero che manda in tilt il nostro sistema sanitario. La domanda è che cosa è stato fatto non nei primi tre mesi di emergenza ma negli ultimi cinque. Che cosa è stato fatto per evitare che la situazione arrivasse di nuovo a questo punto? Probabilmente lei professoressa ha un osservatorio privilegiato. La sensazione è un po' questa. Come prima parlavamo dei mezzi che sono dei mezzi di trasporto pubblico che sono sovraccarichi e ci domandiamo perché non ci sono state più assunzioni ancora di personale più autisti, più corse perché non abbiamo più terapie intensive di quelle che abbiamo in questo momento. Qualcosa è andato storto? Allora, alcuni errori sono evidenti tipo la riapertura delle discoteche come si accennava prima è stata clamorosamente un autogol. il non aver migliorato il sistema dei trasporti un altro errore clamoroso che si è fatto. Il resto, forse non aver fatto i controlli perché anche qui noi abbiamo visto quest'estate lo abbiamo visto chiaramente che ci sono stati degli esercenti dei ristoratori che seguivano le misure con scrupolo e attenzione e altri molto meno. E lì era una questione di controllare e non di punire generalmente tutti quanti ma di andare appunto a far rispettare le regole. Però per il resto, ripeto se noi guardiamo la Francia l'Inghilterra la Spagna cioè tutti i paesi sono in difficoltà in questo momento molti paesi sono in difficoltà in questo momento perché è così perché la pandemia è così quindi sì il governo ha delle colpe dei ritardi gravi però non potevamo completamente evitarla cioè evitarla del tutto persino la Germania sta vedendo un aumento dei casi e poi per quanto riguarda le terapie intensive le terapie intensive sì, si sono aumentate come dicevo prima però trovare medici non lo si fa in un anno e questo è un problema mancano i medici certo e questo è un problema vecchissimo perché è stata fatta una programmazione sbagliata del personale sanitario per cui non abbiamo abbastanza medici ci troviamo in questa situazione grazie professoressa avrei altre 2000 domande ma ho l'impressione che avremo tempo di farle nei prossimi sabati perché non credo che sarà un tema che ci lasceremo dietro molto rapidamente grazie professoressa Viola alla prossima grazie ancora arrivederci